tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video anche perché me che vi parla è oggi andiamo su vlogger govier oh iai cazzo di roba porca puttana così poco ok guardiamo il video ok ragazzi chi è che fa un video che dura un'ora e che lo fa per un'ora e che dura soltanto tre secondi potete scoprire tornare a casa una compo questo la lampadina così che volevo ora da la lampadina tra 120.000 quanti video mi mancano aspetto due me ne mancano due spero di farli corti un'ora benissimo intanto prendo la tazza ok ragazzi la tazza adesso mi do la tazza eccola qua questa mi si rompe il dito mi si rompe il dito mi fa malissimo il dito dai nooo ho incontrato 38 minuti raga prendo soltanto la tazza bello un'ora ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perchè così corta la luce, raga? Grazie. Ok, raga. Matteo, non te lo spieghi male. Scusate mio fratello, no. Ok, ragazzi. Ok, c'è una moto, porca, può fare la fastidio al cazzo. Ok, ragazzi. Eh, papà. Eh, papà? Sì. Eh, ok, ragazzi, la tazza è una data. Adesso c'è tutto così. Veloce, 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 veloce. Ok. Tuo roma, va, va ancora, vai tu a casa. Ok. Ok. Manca, mancano 10 minuti. Lo facciamo, appagiamo subito. Oh, ragazzi. Oh, ragazzi, 20 minuti. Oh, grandissimo. Che cosa sta facendo la nana? Ma è falco. Sì, è falco. Parliamo di libri a scuola, un'ora poi in casa, ragazzi. Ma va a falco. Guarda la nana che fa, guarda, eh. È falco così? Sì. Per far ridere? Sì. Allora, mi sento la tua, Matteo. La maglietta ci compriamo. Ancora. E ancora. Vicente di visualizzazione. Allora, claim. Quindi ho quattro di questi. Bene. Quindi ho quattro di diamanti. Adesso. Forza, forza. È stupido la nana. Molto. Mi fa malissimo il dito, raga. Che faccio io? Madonna, madonna. Mi serve un'altra tazza rosso. Allora, ha cambiato un minchio. Poi. Che raga. Cioè, devo fare. Vabbè, lo lascio là per tutta la notte, va a favore. Poi, allora, ci compriamo. L'ananas. L'ananas. Mi se ne frega se spendo tutti i miei soldi. Lo voglio. No. No. Quanti soldi ho. Pochissimi. Raga. Da 300 sono arrivato a 6.000. Che cazzata. No. 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 Minchia. almeno posso prendere questo ok ragazzi eccoci qua ho fatto grande 5 95.000 che posso che posso cosa serve? usa oh mio dio che cazzo è sto coso? what the fuck? 10 diamanti facciamo un altro video raga bella che bella bella come è venuto il video vediamo bella video lunghissimo eh video lungo un miliardo di ore si soltanto 30 secondi ma anche di meno oh raga sono già arrivato 222.000 sti cazzi bravo che sono no è vero raga io gli spendo 50.000 che figo è un figo della madonna raga perché aveva visto la Sammechetto ovviamente più 97.220 poste 10 video on the same day in un solo giorno shop shop 800 diamant oh ottima offerta 57 euro per 2200 forse me compro va bene figo il mio lana raga cazzo e vabbè ragazzi per questo video è tutto vi ricordo di lasciare un like un commento no merda condividete e noi ci vediamo al prossimo video bene raga grazie 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 grazie